Un 21enne ha perso la vita a seguito di un incidente avvenuto sulla strada provinciale 27B a Baronissi. Il giovane originario di Caprecano di Baronissi è deceduto a seguito dello scontro frontale fra due automobili provenienti da corsie opposte. La situazione per il 21enne è apparsa sin da subito complicata ed inutile è stato il trasporto in ospedale da parte degli operatori del soccorso. Nel sinistro è coinvolto anche un 23enne che risulta in condizioni gravissime. In mattinata i carabinieri hanno arrestato il conducente della seconda vettura per guida in stato di ebbrezza.